Un dolore lancinante mescolato alla spiazzante incredulità di un delitto senza un perché. A tre giorni dall'omicidio di Marina Luzzi, la comunità di Fossombrone si è riunita oggi pomeriggio nella locale chiesa di Santa Maria Ausiliatrice per l'ultimo saluto alla 39enne, mamma di una bambina di appena due anni, uccisa martedì mattina con un colpo di pistola da Andrea Marchionni, il fratello del fidanzato della stessa Marina. L'omelia di Don Steven Carboni ha cercato parole di conforto all'atroce dramma che sta vivendo una famiglia devastata. A cominciare da Enrico, divenuto l'unico genitore della piccola Nicole a causa di un fratello che le ha tolto brutalmente l'amore della compagna e ha reso la figlia orfana di mamma. Il dolore della mamma Franca, della sorella Milena, dei parenti e dei tanti amici e amiche che in chiesa hanno lasciato testimonianze fotografiche di Marina corredate dalla scritta Per sempre con noi. Chiesa gremita in una fossombrone chiusa a lutto con serrande di negozi abbassate e con manifestazioni pubbliche rinviate o iniziate con un minuto di silenzio. Poche ore prima del funerale l'omicidario confesso Andrea Marchionni faceva il suo ingresso nel tribunale di Urbino dove si è tenuto l'interrogatorio di convalida che cercherà di dipanare la nube di mistero che avvolge il movente. I carabinieri stanno setacciando computer e telefono per far luce sui fantasmi della personalità di un uomo chiuso, isolato e improvvisamente degenerato in un'esecuzione con un colpo di pistola fra le mura familiari.